Salvare la centrale 118 di Piacenza. Dopo un periodo di silenzio in attesa dei dati richiesti all'assessore regionale Carlo Lusenti sull'attività della centrale, il comitato che riunisce Croce Rossa, Ampas, Progetto Vita, Misericordia, altri enti e cittadini, lancia un ultimatum a Regione e Asl per ottenere al più presto il dossier dettagliato, mai arrivato, che dimostri l'eccellenza del 118 a Piacenza. Dossier da spendere nella battaglia contro l'accorpamento del 118 con altre centrali emiliane. Vogliamo difendere un modello di servizio efficiente e valido, ha sottolineato Renato Zurla, presidente della Croce Rossa di Piacenza. Vorremmo provare a ragionare con chi di dovere, un tavolo senza farne una bandiera, senza farne delle battaglie di nessun altro tipo, se non quella di vedere, di mantenere una preziosità che abbiamo nel nostro territorio, che è quello del connubio, di un matrimonio vero, nel senso che funziona tra il pubblico e il privato, vuole dire in questo caso il volontariato, e quindi vorremmo cercare di capire attraverso queste cose qual è il futuro e come possiamo dire la nostra rispetto a questo tema. Il nostro obiettivo è mantenere almeno la seda a Piacenza, anche nel caso di accorpamento con Parma, ha proseguito Paolo Rebecchi, responsabile Ampas. Il comitato ha chiesto da diverso tempo comunque dei dati tecnici per poter sostenere una tesi sia alla direzione dell'ASL che all'assessorato alla sanità. A questo punto attendiamo la risposta e possiamo confermare che già nelle prossime ore chiederemo un incontro formale con la direzione dell'USL per ragionare sugli accorpamenti, per sostenere ovviamente la possibilità di mantenere la centrale operativa qui a Piacenza. La partita per salvare il 118 dunque è ancora tutta da giocare.